Chiara Fornara, direttore del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, prende carta e penna per descrivere una giornata tipo che gli operatori sociali devono affrontare. È un pugno dritto nello stomaco, uno spaccato della nostra società che troppi dimenticano, ma ai quali occorre dare delle risposte. Casi di bambini diversamente abili che fanno emergere, a più livello, tensioni e incomprensioni. Casi di ragazzi lasciati troppo spesso da soli che fanno emergere disagi, sofferenze e immaturità. E ancora, casi di violenza familiare e di difficoltà economica. Tutti necessitano sostegno, aiuto, comprensione, tempo. Casi di ordinario lavoro per gli operatori del Consorzio dei Servizi Sociali che devono fronteggiare storie, fatte di volti che necessitano delle risposte che spesso si fa fatica ad affrontare, a causa delle carenze economiche che, per forza di cose, ridimensionano l'operato di uomini e donne al quale si presentano quelle facce della società, costituita non dai barconi che arrivano a Lampedusa, ma di persone che da tempo sono inserite nelle nostre ricche e sempre più indifferenti piazze. Direttore, lei all'inizio di questa sua lettera ha scritto Mi rivolgo alle persone di buona volontà e non solo. A chi si riferiva? Beh, innanzitutto, e lo scrivo sulla lettera, agli interlocutori politici, ai decisori politici, perché credo che questo sia il tempo di individuare delle priorità e la lettera evidenzia quelle che, chiaramente dal nostro punto di vista, sono una realtà dura ma quotidiana, da una parte, dall'altra è l'esigenza di capire dove andare a fare i tagli che ancora sono necessari e dove non è più possibile farne. Quello che vedo io è che c'è una grande attenzione giustissima per tutto il tema della non autosufficienza e degli anziani. Il paradosso di questa situazione è che è come se ci trovassimo nella stessa situazione della condizione sociale in cui si trovano molte persone che non hanno il lavoro e che sono precarie. Cioè ci sono anche all'interno dei nostri servizi delle situazioni che in qualche modo comunque hanno dei livelli di tutela non posso dire buoni o ottimi, ma sicuramente sufficienti. C'è tutta un'altra fascia di persone, ed è su questo che io ho voluto puntare un po' il focus, che sono un po' i precari del sociale, cioè quelli che non hanno tutele di nessun tipo. Tutta questa fascia qui, dentro il nostro mondo, rischia di non essere attenzionata da nessuno se non quando scoppiano le situazioni di emergenza.